no 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 cavallo di merda cavallo di merda eh il mio cavallo eh si al massimo speriamo proprio le pistole da lì mi sa che potete usare solo le pistole si guarda quel braccio come si curva quando quando mira di qua uuuuh uuuuh davvero spiritoso gli ha detto è che l'avete sparato ah no si me la fammi la ma non mi fa sparare il corpo è abbastato oddio si è appennato il cavallo ma come si è appennato il cavallo eh si è appennato il cavallo ma è bello ed ammazza i tizi e il cavallo se li porta dietro come se fossero dei lenzuoli da strada da strada ehi la pianta c'è mi fa sparare quello dietro ma hanno quello davanti ma e io mangio ma come mangi e io mangio ma non è l'hai preso per la gola guardalo guardalo lo stai impiccando l'hai preso per la gola vabbè dai ti va anche di culo c'è il treno si è dovuto fermare ma ha dovuto girare fermati mai buttam giù un po' di ciccia madonna fermati io ancora poi mi vado a schiantare per guardare lui è bello perchè sembra che il tuo piepre il culo perché la lenta non può accelerare come nella puntata dei simpson quando me lo ritrovo al sabato che gliela arresta ma da guarda ma è Claudio se vuoi venire un cramp al pollice 4 guarda 4 guarda boh ma gli sgrina il pezzolaggio perchè non ha più resistenza 4 guarda 4 guarda uno peee uno peee uno peee arriva lì e fa sottopeso ma di tanto vai vai grazie nooo nooo lo pende per il culo e si è fermato accennato ma che vado a prendere la pichinato via perchè dai vabbè dai mettere i personaggi in fuoco o me o o no 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 tranquillo no hoclito lodgo che ha una balота e pure per il culo perché realentavolo quando si avvicinava ancora più e poi più uomo. più veloce Mi va? C'è la resistenza? Rossa c'è la resistenza? Alon